La mia società è la Bergamo Stars Io sono di Castiglione del Stiviero, la provincia di Valterra Ti lasciamo restare No, no, non mi aspettavo neanche, sinceramente Mi aveva raccontato che la montera era euforica Era difficilmente raccontabile, però non ho fatto il genere E non ho sentito mai cosa Ho avuto dei momenti di difficoltà all'inizio e gli ultimi 15 km, sinceramente Poi... la voglia di... l'agonismo che ti dà Quasi corrono a 100 km di questo tipo non è uguale, sicuramente